BELLA A TUTTI RAGAZZI 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 GG per noi Arriva la prima vittoria Ci trova un altro avversario ragazzuoli Vediamo un pochettino chi dobbiamo andare a spaccare Vediamo questo qua Ci sarà un Rui, Patricio, Scarvalan Juan Bernhardt, Denayer, Thiago Mendes, Cross, Verratti, Forsberg, Di Maria e Origi Ok, ok, noi abbiamo il nostro dio nel messo ragazzi con Cruyff e Ronaldinho Ci stanno facendo qualcosa di proprio clamoroso dentro questa partita La prima proprio, mamma mia che partita Ci siamo ragazzi, seconda partita Olimpic Marsilie Andiamo subito a spaccare questo qua O almeno ci proviamo Boom Aia, aia, gli regaliamo, gli regaliamo stazioni così Mamma mia raga Andiamo a sto calcio d'angolo se si può trasformare in qualcosa di pericoloso Oh Ma cosa cacchio fai? Cioè Ronaldinho non l'ha neanche toccata sta palla Ma sei pazzo Occhio! No, vabbè No, vabbè raga No, vabbè raga No, che bomba a mano Ottimo! Dai! Cavolo! Prendiamo ancora a mezzo raga Questa è una bella partita comunque combattuta eh Una cifra proprio Finisce il primo tempo ragazzi Zero a zero Minchia, tostissima Tostissima raga Anche se per un pizzico stiamo andando meglio noi Per un pizzico però E dai Madonna Guardate non vuole entrare sto pallone raga Non vuole entrare sto pallone Nooo No, 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 no raga Mamma mia Meno male Oh, no, che partita raga Nooo All'ottantaquattresimo no raga Dopo tutto sto culo che ci siamo fatti Dopo tutto sto culo che ci siamo fatti raga Non c'ho parole Dopo tutto sto buco di cuore che ci siamo fatti Finisce qua ragazzi Purtroppo andiamo a perdere Uno a zero L'ottantaquattresimo Dopo una partita Di devasto Di devasto raga Peccato va bene Sono comunque contento Abbiamo fatto delle ottime partite Con questi giocatori che sono micidiali Quattordici di rimporta E ci ha detto male Signori niente Questo appuntamento è giunto al termine Spero ovviamente vi sia piaciuto Mi raccomando se è così anche per voi Un bel porto in su Commentate, condividete Passate tutti i miei social Guardate i link in descrizione OneFootball link in descrizione Twitch link in descrizione Anche Instagram Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento Cliccate qua per la camera Per vedere altri due video Se tante volte ancora non avete visti Cliccate le conoscenze a campare Vi schiacciate il canale Cliccate la campanella Per non perdere nessun video Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento Bella raga